Continuano i tagli dei servizi in assistenza domiciliare integrata nel distretto di Lanciano. I pazienti in Adi, dall'8 febbraio, si sono visti sospese all'improvviso tutte le prestazioni domiciliari. Senza una lettera, senza una comunicazione ufficiale dal punto unico d'accesso di Via Dominzoni, ma direttamente per bocca degli stessi fisioterapisti, mentre era in corso quella che poi sarebbe diventata l'ultima seduta di fisioterapia. In creduli, disorientati, ma anche inferociti, ne abbiamo sentiti tanti di utenti e familiari fuori dagli uffici del CUA dell'Asla Provinciale a Lanciano. Stop ai prelievi a casa per i controlli di chi è in cura, stop alle flebo, alle medicazioni, alla consegna dei farmaci a domicilio e anche al supporto psicologico. Mancano persino le garze e i pannoloni. Dei 500 pazienti assistiti in Adi, l'80% è rimasto senza cure domiciliari e di conseguenza è rimasto senza lavoro, che eseguiva le varie terapie, da 32 ore di lavoro settimanale ad appena due. Mentre pazienti e familiari continuano a lamentarsi dal medico curante senza trovare risposta alla propria domanda di salute, l'Asla prova a sedare gli animi, con un comunicato stampa precisa che è in corso la revisione dei programmi assistenziali, che non penalizzerà in alcun modo i pazienti. Questa è la rassicurazione del direttore del distretto, Rosa Borgia, in merito alla questione della riorganizzazione delle cure domiciliari. Quindi per l'Asla è solo questione di applicare per la prima volta in questo territorio, sottolinea Borgia, le regole della proprietezza. Non stiamo applicando tagli, si legge nel comunicato, ma semplicemente rivedendo i profili di cura dei nostri pazienti per verificare il reale fabbisogno e dare a ciascuno le prestazioni che servono. Al Tg Max, gli intervistati in queste ultime settimane si sono detti di tutt'altro avviso e giovedì mattina protesteranno davanti alla sede del distretto di Via Domminzoni.